Mi sembra che sotto sotto ci sia un cuore che batte latino. Forse è vero perché naturalmente una parte della mia famiglia viene dal Ticino. Perché si è ritirata? Prima ho lavorato 12 anni e mezzo. Penso che si deve anche lasciare i giovani e nuove persone con la responsabilità. Quale cosa che la Svizzera ha capito potrebbe essere interessante anche per altri? Se io prendo un valore della Svizzera che sarebbe bene per tutto il mondo sarebbe veramente votare e decidere insieme perché si è parte così della decisione. Mi ricordo abbiamo avuto una difficoltà insieme che era... E ci dica qualche aneddoto. Non i ditani ma era difficile e io ho fatto una torta. L'ho anche fatto con il presidente della Cina e l'effetto è positivo perché è speciale. Il popolo svizzero ha votato in modo chiarissimo a favore di una radiotelevisione svizzera forte. Come deve affrontare il servizio pubblico oggi il futuro? Se l'online è veramente importantissimo, l'internet, tutti devono adattarsi, anche la SS. Signora Leutert, grazie mille. Grazie mille.